il luco riprende il suo campionato di prima categoria ospitando il moro paganica in un autentico scontro diretto tra seconde il san benedetto con un punto di vantaggio prova invece ad approfittare del successo ottenuto la settimana scorsa contro gli aquinani per allungare proprio la società di paganica si presenta al comunale con l'intento di riprendere il suo cammino dopo lo sfortunato match del profeta e si mostra sin da subito aggressiva nei confronti dei padroni di casa luchesi prima affondando sull'out di destra e poi concludendo con forza con il solito holtsknecht dalla corsia mancina il luco risponde da calcio piazzato e riesce prima a mandare alla conclusione dopo svariate deviazioni il nuovo arrivato di francesco antonio quindi a portare venditti a due passi dalla porta di ciocca ancora luco con la conclusione fuori misura di briciù e si è subito dall'altro lato del campo con il salvataggio miracoloso di ciocci su ciuffetelli ottimamente servito da holtsknecht dall'angolo successivo ancora il numero 10 del moro prova uno scorpione che però si perde sul fondo ospiti ancora ad un passo dalla conclusione davanti al portiere prima che il luco rischi di passare con la girata di di virgilio ben servito dall'out di destra l'equilibrio viene però rotto dal moro paganica che sugli sviluppi di un corner praticamente perfetto riesce a trovare la deviazione fondamentale di ciuffetelli prima della spizzata finale di battagliero lo 0 a 1 è servito con gli ospiti che riescono a finalizzare la buona quantità di gioco prodotta il luco prova a gettarsi in avanti alla ricerca del pari ma di virgilio impatta sulla difesa ospite nel tentativo di finalizzare un suggerimento dall'out di destra quindi di paolo è letteralmente provvidenziale nel salvare i locali da un contropiede che potrebbe risultare mortifero il mangiato per il moro e gol subito cross dalla fascia sinistra di briciù ciocca è avalcato e di virgilio si fa trovare al posto giusto e dal momento ancora più giusto 1 a 1 e parità ristabilita nel primo tempo non succede più nulla e la ripresa è sin da subito giocata a volto scoperto dalle due squadre fino al contestato vantaggio del luco dopo un fallo a centrocampo ai danni del moro infatti la battuta di rotellini avviene con di virgilio a disturbare sotto gli occhi del signor pellegrino di teramo la sfera viene riconquistata dai locali briciù mette il turbo sull'out di sinistra e suggerisce mezzo per di virgilio che riesce a trovare il centro del 2 a 1 tornando a festeggiare con il suo pubblico come nel primo tempo mentre il moro paganica protesta con l'arbitro teramano per la battuta del calcio di punizione i locali potrebbero chiudere la gara poco dopo ma ciocca si esalta su una conclusione dall'interno della sua area di rigore di lì a poco sugli sviluppi di un corner di virgilio non riesce a colpire bene di testa si resta sul 2 a 1 il moro si riorganizza e ricomincia a macinare gioco per trovare il pari iniziando a gravitare in modo stabile nella metà campo del luco e addirittura andando ad un nulla dal 2 a 2 con la conclusione alta di cusella la pressione ospite continua mandando al tiro anche fabi da fuori area quindi l'ultima mozione della gara è la conclusione di cusella su calcio di punizione con tutto il moro in avanti compreso il portiere ciocca il tiro sul fondo segna però il tramonto della partita con il luco vincente per 2 a 1 all'inseguimento del san benedetto per altro prossimo avversario parlo ripartire invece da una prestazione gagliarda e coraggiosa con la consapevolezza di meritare senza dubbio alcuno un posto tra le primissime del girone è stata una partita molto dura il primo tempo non abbiamo fatto assolutamente bene siamo partiti un po' contratti loro un po' più organizzati di noi hanno trovato meritanamente il vantaggio poi abbiamo preso le misure anche siamo riusciti a ribaltarla è stata una grande prestazione di forza faccio i complimenti al moro perché ci ha dato veramente filo da torcere fino al 97esimo quindi gli faccio veramente i complimenti adesso dobbiamo riprendere le forze e andare andare avanti affrontare la partita di san benedetto di domenica prossima con sicuramente con un altro piglio un altro atteggiamento è stato comunque una bellissima partita sicuramente siamo sicuramente amareggiati per l'operata dell'albitro perché secondo me al secondo gol del luco doveva far rispettare la distanza davanti la palla il mio giocatore abbattuto lui davanti da regolamento secondo me è fallo io non me lo prende con l'albito però comunque sia quel quell'episodio ha comunque ha giudicato la partita in favore del del luco che poi l'ha vinta io non posso riprovere niente me ragazzi oggi abbiamo dimostrato veramente di essere una squadra forte secondo me una squadra che è venuta qua in un campo difficilissimo con una squadra che sicuramente una corazzata abbiamo dimostrato di saper giocare bene a calcio di 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 merteccerla tutta per me sono episodi che poi eh sfortunati perché poi ci hanno condannato però devo fare solo i complimenti ai miei ragazzi e chi pensava che eh il Moro Paganica non fosse una squadra che potesse per ambire al vertice eh secondo me sbagliava perché dopo dopo la partita di domenica qualcuno l'ha pensato domenica scorsa con San Benedetti invece oggi abbiamo veramente dimostrato di essere una squadra fortissima e faccio i complimenti ai miei ragazzi e dobbiamo continuare così il campionato ancora non è chiuso e cerchiamo di dare il massimo per la finale della stagione e cerchiamo comunque di raggiungere quello è l'obiettivo migliore per noi